E' bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Amici della Serie A Team, buon pomeriggio da Davide Romagnoli e benvenuti allo stadio Luigi Ferraris di Genova per Sampdori a Chievo. E' l'undicesima giornata di campionato ed entrambe le squadre vogliono dimenticare in fretta il Campao nel turno infrasettimanale. I blucerchiati tornano tra le mura amiche dove finora nessuna squadra è riuscita a portare via nemmeno un punto. Proverà ad invertire la rotta al team di Rolando Maran. A Genova, intanto, è partito in questo momento il primo tempo. Pallone per Birsa, da destra, il cross, basso, Maggiorini col mancino! Sul fondo la grande chance per il Chievo in contropiede al tredicesimo. Palla in profondità, inglese viene chiuso, non è finita perché c'è Maggiorini. Prova ad entrare in area, ancora Maggiorini, scatenato sulla destra, Bastien! Pallone alto, è arrivato in scivolata al Belga. Vicino all'incrocio delle linee dell'area, pallone interno, Quagliarella si gira, tiro deviato, Linetti! Carol Linetti! 1-0 Samp! Birsa sul pallone, arriva al cross, colpo di testa di Cacciatore! Il pareggio del Chievo! Il gol dell'ex Fabrizio Cacciatore! 1-1 Va Torreira in porta! Lucas Torreira! 2-1 Samp! Il capolavoro su punizione dell'uruguaiano! Caprari in avanti per Quagliarella, si muove Zapata, pallone per lui! Duvan Zapata! 3-1 Samp! Ripartenza fulminea della squadra di Giampaolo, che fa tris in meno di 45 minuti! Doveri controlla il suo cronometro e fa partire nuovamente Sampdoria, Chievo! Tomovic è pronto a servire, sulla sinistra Gobbi, lancia in profondità di Gobbi a favore di Inglese, si muove Maggiorini in area, Slalom d'Inglese che poi prova a battere sul primo palo, trova la risposta di Viviano! Torreira in avanti di prima, cercare il movimento in area da parte di Caprari, lo stop, prova a rientrare su destro, ancora Caprari con i piedi, Sorrentino in calcio d'angolo! Il cross sul secondo palo per Zapata, ribattuta, arriva al sinistro di Pratt e la parata di Sorrentino! Parte il cross sul primo palo, non ci arriva Quagliarella, da fuori! Arriva il gol del 4-1 di Torreira, che fa doppietta! Poi sbaglia il disimpegno alla defesa del Chievo, Ramirez, Zapata dentro, Quagliarella col tacco! E arriva in questo momento il fischio di Doveri, Sampdoria batte Chievo 4-1!